ciao a tutti ragazzi sono si01 benvenuti a che puntata siamo di cazzeggio nei videogiochi vabbè non mi ricordo bentornati nel cazzeggio di videogiochi oggi siamo su gta 4 lo so è un brutto gioco ma una volta che ci avrò messo le mod sarà più bello di gta 5 fidatevi e vediamo di prendere le nostre armi per iniziare a cazzeggiare come si deve è un fucilozzo così va bene va bene direi che possiamo uscire oh che bella giornata qui a liberty city vediamo di iniziare a fare casini non so davvero da cosa cominciamo cominciamo dato il nome grand theft auto a rubare un'auto ecco lì andiamo 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 il nostro fuciloso non facciamoci vedere che cavolo cosa cosa vorranno quelli beh mi piace quest'auto direi che la tengo finchè finchè non si scassa ecco stavo per dire ok ho segnato un punto in cui andare cioè dove posso trovare un elicottero ogni tanto c'è ogni tanto non c'è vediamo se abbiamo fortuna intanto andiamo la vero effetto quando spacchi questo ahahahah troppo ridere scusate eeeh riscosi eh chi è chi è pronto ma fa culo sul freccetto un cavolo li ha agganciato la chiamata ma con chi ha a che fare comunque è davvero messa male sta auto mmmm ok forse tu hai qualche colpo di pistola grazie scusate dove va quello vabbè ho un miliardo tipo di colpi in questa pistola quindi direi che possiamo usare questa come arma per ora eeeh ok direi che quest'auto va bene dai affrettati chi se ne frega se c'è una gente noi dobbiamo cazzeggiare giusto? dopo aver distrutto mezza città ecco perfetto sono ricercato via 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 io vado in giro io vado in giro per liberty city e davvero faccio una strage poi vado vado su sulla statua della libertà eeeh strappo il cuore quell'auto è molto meglio di questa mi scusi lei è in arresto eh si ha una macchina troppo bella via 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 grazie chi idiota che sono oh ci siamo quasi fra un po' ragazzi avremo tipo 10.000 stelle di ricercato quindi preparatevi diamo dato un occhio alle stelle ecco esiste danno guarda no 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 ok siamo già esplosi praticamente oh oh che guida ma che maleducati scusi lei è un maleducato mi tampona da dietro io sono solo venuto qua e mi vogliono proprio ammazzare ehi ho un'idea una rampa già quella è una rampa? non riesco a capire è una rampa o no? è una rampa o no? che figata lo facciamo in un altro modo ah si è volato via dal veicolo si ti butto giù elicottero dai questo è un cichinaggio fail salve si vorrei un panino con molta salsa e mi sta ascoltando? ma il signore mi sta ascoltando? ah mi vuole lasciare i panini gratis che gentile vediamo cosa succede con il fucilozzo vabbè col fucilozzo sui oggetti interessante proviamo a lanciare queste lattine a qualcuno ok andiamo a combinare casini oh ma mi sa che dai è il primo eh che maleducato qualcosa grazie grazie era una porta quella finto muro fail sbattiamo da tutte le parti con questo veicolo ok pronti via per ora per ora vedo che l'auto che l'auto è niente da dire sono morto adesso ci facciamo un giretto sopra un'auto vada vada oh più piano malizione come diamo altri casini è normalissimo girare tra i parchi con un'auto vero? no eh chi sono sti poliziotti hanno bloccato la strada? eh 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 no no non ho nessun'arma niente niente sono disarmato oh 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 piano 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 no va bene me ne vado oh merda oh merda oh niente non si può andare già da quel ponte ero tipo ricercato in mille universi diversi quindi vediamo di prendere qualche auto importante no? ok così va bene dovrò fare soltanto cose legali d'ora in poi qualcosa di legale qualcosa di legale qualcosa di legale in questo gioco proprio non mi viene giusto questo bene ragazzi direi che la puntata di Cassa Genere in videogiochi finisce qui ditemi se vi è piaciuta mettete un pollice in su iscrivetevi se volete nuovi video e noi ci vediamo alla prossima vera ragazzi bene direi che questa puntata di Cassa Genere nel videogiochi può finire qui e ci rivediamo alla prossima ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti